tonali sicuramente la premier è la nba del calcio se ha un'opportunità così grossa ci deve andare il momento più difficile della trattativa è stato l'inizio spiegare il percorso il progetto al ragazzo e non è stato facile ma sandro è intelligentissimo e ha capito tutto ma va che manca ancora qualche piccola cosa tribù rossonera tribù di gente vera buon primo di luglio a tutte a tutti e bentornata e bentornato qui sul canale del marietto milanista ebbene queste sono le dichiarazioni rilasciate da beppe riso un'intervista che gli è stata fatta su sport italia a riguardo proprio del centrocampista ex ormai rosso nero e ex anche futu pensate un po gioco di parole ex futura bandiera del milan sandro tonali spiegando appunto le motivazioni del perché abbia spinto a scegliere la destinazione di una squadra con una storia incredibile come newcastle da delle prospettive molto molto vantaggiose e dunque bye bye good luck sandro cosa ti devo dire ormai come già detto in questi giorni non mi attaccherò più a nessun giocatore del milan lo sosterrò fino a quando metteranno la sacra maglietta rossonera e poi se se ne devono andare bye bye e passiamo al prossimo ed è anche notizia ufficiale per quanto riguarda il nuovo corso del milan rafaleao indosserà la maglia numero 10 ebbene c'è stato un video annuncio dove sono state confermate queste indiscrezioni dove il portoghese prenderà la maglia dello spagnolo che è ritornato a casa madre cioè il real madrid e stavamo parlando di brahim diaz e dunque un importante passo avanti perché sappiamo che la numero 10 è sempre la maglia dell'artista noi possiamo ricordarci il roberto baggio della storia italiana diego armando maradona i platini i pelè si sa che la maglia numero 10 ha il sapore proprio dell'artista del creatore del creativo e giustamente va sulle spalle del giocatore che in questo momento sarebbe il top player del milan e quindi rafa leao ma è come aprono stamattina i giornalacci più venduti innanzitutto giunto le un gioco di parole il tutto juve sport di torino dove cioè ciao napoli inizia la nuova era del direttore sportivo giuntoli è arrivata in serata il sospirato via libera di de laurentis poi grazie stato buono ci vediamo la prossima volta cioè detto un po la napoletana bella nova si verso il doppio colpo il torino sulle fasce l'ex ormai giocatore dell'inter e della nazionale under 21 italiana e ora doig 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 del verona toro boom poi c'è si no si brozovic rivede la rabbia ma lotta ma lotta tutto bene tutto bene cosa succede con il nostro brozovic avere già fatto tutto già prendere soldi ma quali soldi quali ci prendono per il culo siamo che siamo indebitati fino all'osso e adesso giocano al ribasso e capito no e mo che facciamo lo andiamo a comprare a quell'altro lì a fratesi ha detto che veniva l'inter ma lotta ma lotta io fidale di te perché tu grande 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 diligente l'ennesima pagliacciata di casa inter perché poi chiaramente devono sfottere il nila su tutto quello che è successo aggiunto però non si vedono mai le magagne che c'è nella squadra dell'inter la milanese passano sempre in secondo piano e vabbè in ogni caso galti attenzione arrestato a nizza galti e lascia il psg per andare in galera accuse di razzismo davvero incredibile i giudizi covisoc regina esclusa dalla serie b e probabilmente anche in lecco e qua mettono risale il brescia mentre sull'altro giornale del qual era il corriere dello sport si il corriere dello sport di roma dicono un'altra cosa cioè per ora lecco regina autbra brescia spera cioè da una parte affermano che salirà il brescia da quest'altra c'è la speranza quindi chi dobbiamo credere come sempre di questi giornalacci intanto serie a niente pausa a natale mercoledì ci saranno finalmente i calendari e lì cominceremo a fare i nostri sogni abituali estivi e soprattutto vedere quale sono le date specifiche che ci vedranno giocare contro inter contro juve contro napoli come facciamo ogni anno non ci saranno pause appunto natale secondo il calendario che uscirà mercoledì proprio a mezzogiorno il via sarà il 20 di agosto e la chiusura il 26 di maggio solo un turno infrasettimanale quattro soste per le nazionali e la coppa italia inizierà il 6 di agosto poi sempre in grande il coriore dello sport juve ci penso io che pensi mi vlaovic e chiesa in stand by piacciono olm e oilung hh attenzione come li mettete hh perché poi possono richiamare al famoso 88 che hanno dovuto togliere perché sennò richiamano hi hitler nazista occhio non mettete queste cose corriolo sport perché sapete che c'è molta sensibilità su questi temi così importanti inter in trigo brozovic per frattesi serve ai o na 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 serve un anno per Per Frattesi, intanto Brozovic è lì che non si sa, diventerà uno sceicco d'Arabia anche lui. Orsolini per la Lazio, Fiorentina Luque Bacchio, Lotito offre 7 milioni, Saputo, chiede il doppio l'esterno belga dell'ERTA, idea per l'italiano. Musa si al Milan, assalto a Reinders, di questo già avevo dato l'anteprima ieri su Musa, secondo i media spagnoli la trattativa sarebbe davvero, ormai c'è il sì del giocatore, ma avanzata tra le due società. Ho già detto la mia anche in merito a Musa, vivendo in Spagna ovviamente seguo anche la Liga, è un buon giocatore tecnicamente, se devo trovarci un punto debole secondo me è un po' lento. Questa è la mia opinione, poi speriamo che questi algoritmi di cui ieri tra l'altro, ecco finalmente dopo tempo, sono riuscito a vedere Moneyball, il film che si rifà proprio agli athletics, no? del The Oakland, di baseball, dove si utilizza questo algoritmo, no? Sono stati privili che hanno utilizzato questo algoritmo che ha portato per diversi anni poi a vincere anche il campionato di baseball americano da parte di questa società, con Brad Pitt come allenatore, come attore principale e devo dire che rimango un po' della mia idea, nel senso che sì, i numeri, gli algoritmi possono avere un valore in base a tanti fattori che si vanno studiando sui giocatori, ma alla fine secondo me quello che conta sempre di più è anche l'intuizione e il fattore umano, cioè una cosa non toglie l'altra, quindi bisogna saper unire tanto il lato più scientifico di questi numeri con il lato più umano, che credo alla fine in ogni ambito della vita dovrebbe andare in questa direzione, intanto Toro colpo granata, ecco Belanovo, freccia da Juric, parla in un'intervista a Zola, Gianfranco Zola, Napoli che vara il nuovo best e dice Garcia mi piace per il Napoli e in grande il Milan cambia pelle, già cinque rinforzi per Pioli, Loftucic, Firma, Pulisic, Musa, Cukvoeze, Reinders hanno detto di sì e vediamo se effettivamente poi queste cose andranno effettivamente in porto. Intanto è stato rinnovato anche il nostro carissimo Ignaz Abate per la panchina della primavera rossonera, ci sono varie notizie, come già detto ieri, di una vanda nara che propone suo marito al Milan, ma al Milan sempre che gli rimandi indietro la proposta, addirittura dal Bayern Monaco al Milan ci sarebbe un sondaggio secondo il giornalista di Sport Italia Alfredo Pedullà e stiamo parlando di Ryan Gravenberg, classe 2002 che tra l'altro è finito come no nel mirino anche di due club, Liverpool e proprio Newcastle della Premier League, però il Bayern Monaco fino adesso sembra che non ha ceduto, Gravenberg una valutazione superiore ai 35 milioni e sembra secondo Pedullà che il Milan sarebbe anche pronto a fare un sacrificio per lui. Poi a ruota libera un po' di notizie sempre sul discorso mercato, c'è un Decetelar che adesso potrebbe partire secondo la Gazzetta dello Sport motivo che ormai è lì, è lì nell'aria, anche il suo europeo under 21 non è stato brillante, se qualcuno busserà alla porta con 28-30 milioni il Milan potrebbe anche effettivamente in questo momento valutare la sua cessione. Poi ci sono ore di riflessione per quanto riguarda la proposta, l'Houkost del centrocampista Nico Dominguez del Bologna secondo tutto Juve Sport, il costo non è elevato, servono una decina di milioni per strapparlo al Bologna che però non vorrebbe privarsi del giocatore ma ovviamente non si opporrebbe ad una eventuale cessione. Poi c'è anche un altro nome che è uscito, io vi dico anche da dove prendo le fonti, poi ragazzi sapete che tra questi mille nomi magari ne esce fuori uno da prendere due o addirittura nessuno di questi, stiamo parlando di Sinisterra lui Sinisterra, attaccante colombiano di proprietà del Leeds, come riporta tutto Juve Sport dovrebbe avere una valutazione intorno ai 25 milioni di euro e per quanto appunto il Milan stia insistendo per il laterale del Villareal, Ciugueze nel frattempo sembra che stia comunque valutando anche altri profili. Poi il discorso di Brescianini che torna al Milan ma sembra che il Frosinone lo vorrebbe perlomeno in prestito Daniele Longo su Twitter dice che non c'è ancora un accordo tra Mila e Frosinone il club neopromosso in Serie A ha proposto acquisizione a zero simbolica col 50% della futura rivendita il Milan non è ancora convinto se ne riparlerà nei prossimi giorni. Poi su Pulisic sembra che già ci sia un accordo con il calciatore così come è successo con Musa per quanto riguarda la Gazzetta, uno stipendio di 4 milioni a stagioni il Milan sta lavorando per uno sconto, riceve uno sconto da parte del Chelsea per provare a prenderlo a 15 milioni di euro e niente, poi sul discorso di Reinders invece che cosa filtra dalla trattativa con la Z sempre secondo tutto Juve Sport la richiesta come già detto nei giorni scorsi della Z no tartar control del dentifricio ma a Z al Mar squadra olandese di 18 milioni per quanto il Milan come sempre cercherà di abbassare le pretese della società olandese e chiudere questa trattativa col calciatore a una cifra inferiore dove sembra che appunto tutti questi nomi che sono stati detti all'inizio quindi i vari Ciugwe Z, Reinders, Musa e Pulisic abbiano già dato il loro consentimento per poter giocare nel Milan e adesso bisogna trattare con gli agenti e con le società e entrare nel vivo delle trattative in ogni caso tutto si sta muovendo, il Milan è molto attivo nel mercato in questo momento già ci sono due acquisti ufficiali, Marco Sportiello come secondo portiere l'off to cheek per il centrocampo, quella parte fisica che mancava dopo l'addio l'anno scorso del Livoriano che sì, il 71 della smorfia napoletana come sempre ho detto Io ho fiducia, io vi dico la verità, ho fiducia perché vedo che ci sono movimenti anche abbastanza veloci per dare al nostro mister Stefano Pioli alla partenza, allo start del 10 di luglio una squadra che possa già cominciare a lavorare tutti insieme per la prima volta quest'anno visto che l'anno scorso è stata una stagione molto particolare anche per via del mondiale che c'è stato in Qatar proprio che ha spezzato in due il campionato in tanti sono arrivati alla fine, un calcio mercato che è stato fatto un po' alla rinfusa anche perché Maldini e Massara furono rinnovati il 30 di giugno il closing con Redbird si chiuse a settembre, quindi è stata un'annata particolare mi aspetto ovviamente da questo mercato delle risposte importanti da parte della società e sembra che poco a poco stiano arrivando e a quelli che, eh ma questi nomi, questi qua non fanno manco un gol, destra, sinistra prima di giudicare l'operato guardiamo realmente nei fatti poi quello che succede il prima non si può mai dire e poi anche su tutto quello che è successo chi può dire se bene o male, si vedrà e con questo vi saluto, vi auguro un felice sabato ovviamente vi aspetto nell'altro mio canale oggi per un nuovo audio un nuovo capitolo della serie di saggezza popolare in basso trovate tutti i link in descrizione per seguire fatemi crescere anche l'altro canale ragazzi è un canale per utilizzare il cervello e il cuore quell'altro immagino che nel calcio 90% sono pecore da greggio però almeno quel 10% seguitemi anche dall'altra parte perché è un Mario in, oh Marietto qua però io sono Mario ovviamente in versione molto più introspettiva quindi, cioè avete anche un vantaggio a stare in questo canale di avere una persona che vi può fare ragionare anche su tutti quegli aspetti che nella vita normalmente vengono presi in superficie io cerco di andare a fondo attraverso detti e proverbi popolari antichi italiani dandogli un taglio completamente psicopedagogico visto che ne ho le facoltà per farlo e anche un bel tocco di spirituale che mai manca vista anche la mia pratica ormai ventennale buddista detto questo, noi sul canale se non ci sono delle notizie di chissà quale genere ci rivedremo domani mattina per un nuovo appuntamento in fine settimana, adesso che è estate farò un video durante metà giornata il sabato e la domenica durante la settimana continuerò almeno sui due video visto che durante l'anno ne faccio tre tutti i giorni di media durante il campionato d'estate abbassiamo un po' anche perché poi non è che possiamo fare come certi giornalisti o certi youtuber che pur di stare sempre lì a fare video, video, video vi raccontano sempre la solita rava e fava bisogna anche essere un po' coerenti con la linea dire cose quando c'è da dire cose se no quale miglior cosa che cagliarsi come si dice qua in Spagna starsi zitti e ascoltare e viversi anche un po' di silenzio che non fa male un ringraziamento a tutti coloro che mettono i like di sostegno mi raccomando un ringraziamento a tutti i nuovi, le nuove iscritte al canale ma soprattutto a tutti coloro che continuano a seguirmi e condividere anche nei loro social i miei video un ringraziamento ulteriormente speciale a tutti gli abbonati al canale che da soli 0.99 in poi sostengono il gran lavoro della tribù rossonera soprattutto si vede durante la stagione calcistica che sto veramente quasi sempre qua per voi, per i gruppi di Telegram di Facebook sono sempre qua con voi in questa grande famiglia chiamata tribù rossonera allo stesso modo coloro che fanno anche donazioni Paypal, conto corrente bancario voi saprete che c'è anche il gruppo abbonati in Telegram tutto trovate in descrizione ovviamente gli abbonati del canale per stare nel gruppo di Telegram mi devono scrivere in privato a mariettomilanistachiocciolagmail.com per essere inseriti nel gruppo e ovviamente chi è abbonato al canale ha dei benefici che altri non hanno altrimenti continua a seguirmi in questo modo io non obbligo nessuno se puoi, se vuoi, hai la volontà di poter lasciare qualcosa per sostenere la tribù lo puoi fare altrimenti in ogni caso io non ho rancori per nessuno un bacio alle amiche un forte abbraccio a tutti gli amici sempre Forza Milan ovunque e comunque ti auguro un felice sabato e ci vediamo anzi ci ascolteremo nell'audio oggi pomeriggio nell'altro mio canale Saggezza Popolare ciao